Apri il tuo ufficio postale in franchising, siti poste e anche pagamento bollettini, sitiposte.it 4.500 i ricoveri effettuati nel 2015 all'IRCA di Ancona, ricoveri che salgono 8.700 se si considerano anche le sedi di Fermo, Cosenza e Casate Nuovo. Aumentano i day surgery, ovvero gli interventi in regime di ricovero limitato a poche ore. Ad Ancona sono stati 548, l'81% in più in due anni. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal bilancio sociale 2015 dell'IRCA, il primo con certificazione di qualità. Sendo l'unico istituto a livello nazionale a carattere scientifico che si occupa di fare assistenza, cura e ricerca in tutte le tematiche dell'invecchiamento, per certi aspetti questo fa sì che l'istituto abbia maggiore responsabilità sociale verso l'esterno. Per cui con questa occasione del bilancio sociale noi ci stiamo proponendo per farci conoscere meglio, per aprirci di più verso il mondo esterno. Migliorano anche le performance relative agli esami radiologici e di medicina nucleare, prestazioni destinate a migliorare ulteriormente con le misure intraprese per la riduzione delle liste d'attesa. Al CUP sono state garantite in media 2.500 prestazioni aggiuntive grazie all'attivazione di tre ambulatori specialistici, a un servizio automatico di recall telefonico dei pazienti e a visite programmate anche di sera e di sabato. Cresce anche il peso internazionale della ricerca. Sono 18 le ricerche vinte nel 2015 per 1.515.000 euro di finanziamenti ottenuti, di cui più del 30% europei.